L'Otus Produzione c'è Paolo Del Bronco per Re Cinema, mi ricordo che il film uscirà dopo Cannes, cioè martedì 17 maggio. Questa pertanto è una anticipata che siamo riusciti a strappare al festival prima di andarci, d'accordo con il festival, ti ricordo l'embargo per la critica fino al 14 di maggio. Stiamo aspettando anche che ci raggiunga qui Francesca Archibugi che insieme a Paolo Virzi ha scritto questo meraviglioso film, ecco Francesca. Un pochino più avanti, ma che qua, sono un po' scompaio. Perché è basso? Stava lei che ha brunito le vecchie. Si è persa per strada. Signora però ci mette se a sede, che non mi mette a fuoco. E mi accompagna. Porta la dietro a Virzi, è più magro.